Pronto? Amore, sei tu? No, non posso parlare adesso, c'è un cliente. Ciao. Sì, ti chiamo dopo. Buongiorno, il Cavalier Terlizzi. Eh, non c'è, cioè c'è, ma è in riunione, in amministrazione. Ho capito, io intanto magari... La formica. Aspetto qui. C'è la formica. Dicevo, magari intanto l'aspetto qui. Va. La ragazza. Per caso, dice la brasiliana di Potenza. Sì, allora posso andare? Sì, grazie. Prego. È la mia serata, è il mio pubblico, è il mio show. Non posso permettere che una troietta da quattro soldi mi rubi la scena. Gattina mia, pensa alle Maldive, eh? Quelle stupende spiagge accarezzate dalla brezza del Pacifico sulla grande barriera corallina. Pensa alle nostre notti. Non voglio pensare a niente. Voglio la mia grande occasione, ecco che cosa voglio. Alle Maldive non mi conosce nessuno e poi i coralli mi fanno schifo. Ma dammi una, una sola ragione perché io debba rinunciare a realizzare la mia vita artistica. Non te ne do una. Te ne do due miliardi di ragioni. Prego. Specialità. Notti di fuoco, sì? Ma che aspettiamo, mio caro? Andiamo. Tesoruccio! Vieni, mia piccola dolce Bayadera. Vieni, le Maldive ci attendono. All'aeroporto, presto. Guarda. Questa è la vera felicità. Allora, che aspettiamo? Va! Come mai tanta fretta, signore, eh? Tranquillo, spatola. Oh, Carmine.